Va bene, una madre che ha provato in tutte le maniere a difendersi, ha chiesto aiuto agli assistenti sociali, ci sono i carabinieri là in diretta, oggi Carla, però di fatto non è successo nulla. Ora, se un genitore ha problemi, Roberto Alessi, quando tu vuoi intervenire intervieni, allora se un genitore ha problemi, pensa che vada contro la sua stessa vita, fare una denuncia contro un figlio, però davanti a una segnalazione agli assistenti sociali, caro Santino Gaudio, psichiatra, tu ti occupi di queste cose, Io mi chiedo, ma perché non si interviene d'ufficio e non si aiutano questi genitori? Io capisco, il sindaco ha detto, ma non sono riusciti a denunciare perché poi quando tu vai contro un figlio e vivi in casa quel problema, è la stessa cosa spesso e volentieri succede nei casi di violenza sulle donne, La donna in casa che subisce violenza non ha la forza, il coraggio di denunciare perché ha l'aggressione e la guzzino in casa, vanno aiutate, ma la legge parla chiaro su questo. Carla, che cos'era successo? Quante volte ha chiesto aiuto questa madre? Sì Eleonora, allora Eleonora, ci hanno raccontato che diverse volte il figlio era stato violento non solo con la madre ma anche con il padre, Una volta hanno raccontato che hanno visto loro proprio in diretta perché al terzo piano, vedete, lì c'è questo balcone e il figlio voleva buttare giù la madre dal balcone. A quel punto sono intervenuti i carabinieri, l'ambulanza e tutto quanto ed è stato infatti consentito un TSO, è stato portato via, poi non sappiamo per quanto tempo è stato trattenuto, ma dopo di che è tornato qui come prima a vivere insieme ai genitori. Un'altra volta ci hanno raccontato di un altro episodio che avrebbe tirato addosso alla madre un barattolo colpendola alla testa, quindi la madre ultimamente era molto preoccupata, per questo si era rivolta agli assistenti sociali, perché ci hanno detto che diceva prima o poi questo figlio mi ammazza, mi scanna, perché tante volte si sentivano i litigi dentro casa, tant'è che ci sembra strano Eleonora che quella mattanza sia avvenuta senza che nessuno abbia sentito niente, per questo anche si stanno facendo tutti questi rilievi dentro casa, per capire quando è avvenuto, perché sembrerebbe che questo omicidio sia avvenuto il lunedì, cioè il giorno precedente, e quindi pensate ancora più tragico perché il figlio si sarebbe cambiato e avrebbe dormito nel suo letto con i genitori morti in soggiorno. Sono stati trovati Eleonora quasi abbracciati come se uno volesse proteggere l'altro dalla furia del figlio. Pensate a questi poveri genitori che hanno capito che per loro non c'era più speranza quando questo figlio si è gettato con tutta l'ira possibile addosso a loro con questa mannaia e le ha colpiti decine di volte. La sorella quando è venuta qui ed ha aperto la porta e ha camato subito i carabinieri, Eleonora come Madeve lo ricordate non aveva dubbi che fosse stato il fratello, e così anche questa sorella ha detto guardate è stato mio fratello, era sicura che fosse stato lui. Quindi se l'aspettavano perché come dicevo tante volte, tante volte era stato violento con i genitori. La domanda è serve una riforma importante, questo è un appello anche alla politica, serve una riforma importante su questo tipo di disagi mentali, di malattie mentali. Santino Gaudio, lei si occupa tutti i giorni di questo, cioè è inutile che noi raccontiamo storie. Tutti i giorni, in una mano o nell'altra, viene fuori questo stesso problema, ovvero disagi psichici, mentali, gravi, meno gravi, inascoltati, denunciati. Mi viene in mente il caso di Alice Scagni, mi viene in mente il caso di Benno Neumayer, e ce ne sono tanti altri di casi. Ora, le chiedo che cosa devono fare le istituzioni, perché non si può procedere così, è chiaro no? C'è un'emergenza, lo diciamo ormai da mesi in questa trasmissione. Che cosa bisogna fare? Iniziamo a metterci ad un tavolo e capiamo. Il tema è quello di realizzare nei fatti un sostegno alle famiglie, che sono state lasciate sole ormai dal fatto che il paziente non può essere, anche se grave, ricoverato per più di due settimane, e quindi rimane poi in una condizione dove la responsabilità è esclusiva dei genitori o dei familiari stretti, come dicevamo prima. Qual è il tema? Il tema è che gli assistenti sociali possono fare, ma anche loro, fino ad un certo punto. Il trattamento sanitario obbligatorio si può fare soltanto, ma solo fino ad un certo punto. Quindi lì il punto centrale è applicare le regole, come diceva, e soprattutto cercare di non far spaventare le famiglie a denunciare e creare un contatto tra la famiglia e la struttura psichiatrica territoriale. Sì, ma vanno creati dei nuovi organi istituzionali. Però questo, devono esserci dei luoghi, devono esserci dei luoghi, ma non si tratta di fare nuove legge, ma di applicare quelle che ci sono. Ditemi quello che pensate, Giovanni Terzi e Poi Lugli. Io ritengo sia necessario, perché c'è un vuoto, perché i TSO durano poco tempo, 15 giorni, si devono riaprire dei centri dove queste persone vengono curate e vengono tolte dalle famiglie, chiamateli come volete, ma devono succedere, perché altrimenti la mattanza continuerà sempre. Queste persone non sono in grado di autogestirsi. Il benno, come questa persona, non sono in grado, non sono assolutamente in grado. Giovanni, mi permetti, mi permetti, i centri ci sono. Non dobbiamo avere paura che ci serve il cuore. La legge è basale. La legge è basale. Facciamo un piccolo. Nasce in una situazione in cui i mancini venivano ricoverati a forza su denunciare famiglie. Questo era intollerabile. Si fa un'ottima legge che abolisce manicomi, ma stabilisce che ci saranno case famiglie, ambulatori, centri di igiene mentale, anche con possibilità coattive nel TSO. Che succede? Che i servizi sociali sono quelli su cui si abbatte la scure dei tagli di bilancio dappertutto negli anni. Non parliamo di un governo degli anni. Rifinanziamo questi servizi. Io me li immagino i poveri assistenti sociali di racalmuto, ma che possono fare? Questa non è una denuncia, Eleonora. È una segnalazione. Il genitore che è il figlio violento non ha bisogno di andare a commissariato. Ha cercato di buttare giù dalla finestra la madre. Sono intervenuti i carabinieri mentre uno cerca di buttare giù la madre dalla finestra. Sì, ma questa è una storia che ancora una volta pone, e con grande chiarezza, perché lo racconta la madre stessa, pone il rapporto tra amore e consapevolezza. E chi si ritrova tutto questo carico? La famiglia. Perché quello che tu dici, Massimo, è verissimo. Le strutture ci sono. Mancano i soldi. Ma non ci sono tante strutture. Mancano i soldi, manca la quantità sul territorio e manca la possibilità di gestire tutti questi casi. Quindi i genitori si trovano all'interno di una famiglia, una famiglia all'interno del quale dice prima o poi mio figlio, questo figlio mi ammazzerà. Questa consapevolezza, questa paura, ma unita all'amore, all'accudimento. E questo diventa alla fine l'esplosione dei casi che raccontiamo continuamente. Però scusate, questo ragazzo, questo figlio, ha tentato di buttare giù la mamma dal balcone. E non è violenza su una donna questa? E non si doveva attivare un codice rosso su questo? La mamma è dal balcone. Non si doveva attivare un codice rosso su questo? Di un figlio, di un uomo che tenta, adesso lasciamo stare il figlio, benissimo. E il figlio? Un uomo che cerca di buttare giù da un balcone una donna, ovvero la madre. Dopo tre giorni doveva essere attivato il codice rosso. Dov'è? Dov'è tutto questo? Dov'è? Voglio sapere dov'è. È inutile che ci giriamo intorno. Anche perché i casi di femminicidio avvengono la maggior parte delle volte entro le mura domestiche. Quindi è chiaro che si tratta di un caso di violenza sulla donna. Apriamo anche, guardate, Vittorio in trocaso ha...